Licenziato per la seconda volta e vediamo come andrà. Farà ricorso al giudice del lavoro o accetterà il licenziamento? Carmelo Aprile, ex primario gastroenterologo del maggiore di Modica, arrestato dai carabinieri il 15 gennaio scorso all'interno dell'ospedale dove prestava servizio? Il medico, 66 anni, è in effetti molto vicino alla pensione ed era già stato sospeso per un anno dalla stessa magistratura che lo ha incriminato. Ora però giunge il provvedimento disciplinare dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale che lo hanno licenziato per la gravità dei fatti che gli vengono imputati. I fatti sono noti. Aprile era dirigente medico legato da un rapporto di esclusiva con l'azienda sanitaria provinciale, mai autorizzato ad attività ambulatoriale in Tramenia, ma visitava pazienti dentro l'ospedale maggiore di Modica facendo loro saltare la lista delle prenotazioni e intascava in contanti il prezzo da lui autonomamente deciso, molto più alto fino a 150 euro del ticket con cui i pazienti avrebbero potuto ottenere la stessa prestazione. Le indagini scattarono in seguito alla denuncia di un paziente che non ha gradito questa lunga sequenza di anomalie sospette, visita in ospedale ma senza ricevuta fiscale e pagamento in contanti. Ma per un cittadino modello che denunciò, tanti altri pazienti si rifiutarono di collaborare. Scattate le indagini, furono eseguiti controlli documentali e operate intercettazioni dalle quali apparve chiaro il sistema collaudato secondo cui il primario operava. Decine di pazienti furono invitati a riferire quanto di loro conoscenza, ma la collaborazione è stata carente. In ogni caso i riscontri probatori sono stati più che sufficienti e dopo un rapporto consegnato dai carabinieri, la procura chiese e il GIP dispose all'arresto per peculato aggravato, truffe e abuso di ufficio. Accertate circa 30 prestazioni rese dal primario in modo totalmente illegittimo, sia in danno dell'azienda sanitaria e dello Stato che dei pazienti, costretti o indotti a pagare molto di più di quanto sarebbe stato giusto attraverso il normale accesso al servizio sanitario di cui il primario era dipendente con vincolo di esclusività. Aprile era ed è attualmente imputato in un processo penale risalente al periodo in cui operava nell'ospedale Busacca di Scicli. Pressoché analoghe le imputazioni, ma in questo caso è in corso il dibattimento del giudizio di primo grado. Invece il licenziamento, allora disposto dalla direzione dell'azienda sanitaria, fu annullato dal tribunale in quanto ritenuto illegittimo. La commissione disciplinare ha deciso per il licenziamento, per gravi motivazioni ovviamente che voi conoscete. È la seconda volta, la prima volta è successa nel 2010 mi pare, poi era stato reintegrato e stavolta la commissione con un lungo verbale ha deciso per la... e io ne prendo atto, anzi sicuramente l'azienda in caso di processo si costituirà parte civile.